Gomez sul fondo si ferma, rientra, scivola, la palla è ancora sua, Alisson non esce, Florezio lo fronteggia, arriva il pallone verso Deron che lo infila in porta! Palla messa dietro, arriva il mediano che la mette sul secondo palo. Questa è una squadra che se non la rispetti e sei capace anche di raffreddare un po' il momento dentro la partita, ti fa correre a vuoto. 9 minuti, sciocca l'Olimpico per la Roma, prima Cornelius, poi Deron, 2-0 per l'Atalanta. che ha dei tempi.